Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Amaci Casa Italia. Oggi stiamo vedendo un topper in piume d'oca. Allora, qual è la caratteristica di questo prodotto? Evidentemente la sofficità. Questo è un prodotto della Saludormi, evidentemente la sofficità. Vediamo anche lo spessore, perché questo è un altro argomento importantissimo, perché non tutti quanti topper a piume d'oca hanno le stesse caratteristiche. E evidentemente nel periodo invernale diventa, oltre ad essere un prodotto molto comodo, quindi sul materasso sicuramente molto gradevole, nel periodo invernale diventa un prodotto estremamente confortevole, perché produce calore. Perché il topper è non all'interno del materasso? Perché il topper praticamente ha una funzione avvolgente sul corpo. Se noi avessimo all'interno del materasso lo stesso prodotto, le stesse piume d'oca, non avrebbero questa funzione, perché starebbero dentro la struttura, mentre il topper avvolge nel momento in cui lo utilizziamo. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia. Stavamo vedendo un topper in piume d'oca di Saludormi.